Il bodybuilder ilpino Gerardo Di Benedetto questo fine settimana prenderà parte al campionato italiano di Perugia. L'appuntamento per l'atleta di Aquilonia è previsto il 3 aprile. Di Benedetto, che è stato tre volte campione italiano nella categoria HP-8 e vicecampione del mondo nella categoria HP-6, cerca conferme. Dopo alcune selezioni per il campionato italiano, il 3 aprile cercherò di salire su qualche gradino del campionato italiano. Mi accontento di molto poco e spero che va tutto bene. La preparazione sta andando molto bene e siamo abbastanza tirati in questo momento e speriamo che vada tutto bene. Rispetto alle due precedenti apparizioni al campionato italiano, come ci arrivi questa volta? Allora, questa volta ho fatto delle scariche e una preparazione un po' più particolare. Più densità al muscolo, diciamo la massa magra, per preservarla fino a domenica. Ancora tuttora siamo in fase di preparazione, però siamo quasi finiti al termine. Manca pochissimo e dunque abbiamo cambiato qualcosa. Sì, questa volta la massa magra è un po' più densa, un po' più rotonda, è un po' più diversa dall'altra volta. Però credo che sono già a un buon punto, a due giorni dalla gara. Sei ottimista? Ma abbastanza, abbastanza. Credo nelle mie possibilità e ovviamente, anzi, devo dire che quest'anno il campionato italiano, ovviamente dopo aver vinto i tre campionati precedentemente l'anno scorso, ovviamente sono salito di categoria. Dunque sarò in gara con un pezzo superiore all'anno scorso. Ho un HP-6, mentre l'anno scorso era HP-8. Dunque sono salito due chili di massa muscolare, diciamoci.